Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Così sta scritto Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli La conversione e il perdono dei peccati Cominciando da Gerusalemme Di questo voi siete testimoni Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso Ma voi restate in città Finché non siate rivestiti di potenza dall'alto Poi li condusse fuori verso Betania E alzate le mani li benedisse Mentre li benediceva si staccò da loro E veniva portato su in cielo Ed essi si prostrarono davanti a lui Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia E stavano sempre nel Tempio lodando Dio Parola del Signore La solennità dell'ascensione del Signore al cielo È la seconda grande tappa del tempo pasquale Quindi Pasqua, ascensione e poi ci sarà la Pentecoste Il Signore risorto oggi è glorificato nel suo corpo umano risorto Quindi noi lo esprimiamo naturalmente con un linguaggio simbolico Gesù entra nel cielo, cioè nella dimensione divina Evidentemente non è un viaggio di tipo astronautico Ma è un cambiamento della dimensione dell'essere Ecco, ora in Dio c'è uno di noi Ora in Dio il corpo glorificato di Gesù resterà per sempre E abbiamo ascoltato proprio perché è solo Luca Che ci racconta l'ascensione del Signore Abbiamo ascoltato tutti e due i racconti Che sono alla fine del Vangelo di Luca E all'inizio degli Atti degli Apostoli Che è il secondo volume dell'opera lucana Dell'opera di San Luca E vanno sempre tenuti insieme Vangelo e Atti E questa cerniera, diciamo questa unità È fondata proprio dal racconto dell'ascensione Gesù sale al cielo con le mani alzate In segno di benedizione Mentre lì, è molto bella la scena Mentre lì benediceva, si staccò da loro E scompare Ma tutti i discorsi precedenti E tutto il contesto, che cosa ci fa capire? Che Gesù non se n'è andato È scomparso dal punto di vista fisico Ma ciò, come dice San Leone Magno Ciò che era presente nel corpo di Cristo Ora è passato nei sacramenti Nella vita sacramentale della Chiesa Della comunità Ora è Cristo che battezza quando noi battezziamo Ora è Cristo che si dona quando noi spezziamo il pane E beviamo il vino Ora è Cristo che annuncia la parola Quando la Chiesa annuncia la parola Ecco, e così via Cristo che era, tra virgolette, limitato naturalmente Come ogni uomo Dal suo essere solo a Gerusalemme In quel determinato tempo Ora nella sua ascensione Diventa presente in tutti i luoghi E in tutti i tempi Perché è sempre possibile Incontrare Gesù Appunto attraverso i segni sacramentali E anche non solo i sette sacramenti Ma sacramentali in senso ampio Attraverso il sacramento che è la Chiesa Che siamo noi Che sono le persone È sempre possibile E quindi è una festa bellissima Quella dell'ascensione Perché ci racconta Di un Gesù Che continua a camminare con noi E ci benedice Bene dire Dire bene Dice una parola di bene su di noi E continua appunto A guidarci attraverso il suo spirito Che verrà donato Poi domenica prossima Nel culmine della Pentecoste È lo sguardo Che vede Gesù Salire al cielo Non è uno sguardo di tristezza Per il distacco Ma è uno sguardo di gioia Perché là dove è entrato lui Dice la liturgia Capo e primo genito Un giorno entreremo anche noi In cielo Insieme con lui Entreremo anche noi Un giorno Con il nostro corpo trasfigurato Tutta la nostra vita salvata Questa è la grande speranza Questa è la grande certezza Che portiamo nel cuore